C'è qualcuno in questa televisione italiana che fa questo tuo mestiere a gamba tesa in un modo che non ti piace? Ci sono delle individualità che io non apprezzo. Tipo? Ma tipo chi manda in onda i volti dei bambini, chi butta le telecamere quando magari una mamma esce con i bambini della panetteria e della mamma di un indagato? Cioè non si fa, non si fa. Perché quella mamma non ha nessuna colpa e quei bambini sono dei bambini piccoli che non capiscono quello che è successo, che non capiscono dove è il loro padre e non ha nessun diritto di entrare nella vita privata di una donna che ha subito e sta subendo delle violenze perché si trova a dover confrontarsi con un marito magari che è in carcere per delle accuse tremende. E chi cazzo sei tu per mettergli la telecamera addosso? Cioè spiegamelo. Luigi, scusa, ti trovi d'accordo quindi con le parole del presidente Jacopino dell'Ordine dei giornalisti? Cioè mi riferisco ovviamente anche alla vicenda che ha investito Barbara D'Urso. Tu sei un giornalista, c'è chi non è giornalista e fa questo mestiere? No, 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 no. Barbara D'Urso fa il suo mestiere. Il fatto che sia giornalista non lo sia, non è una questione, secondo me, non è quello. Ah, beh, giornalista perché abbiamo il patentino, perché sennò torniamo alle corporazioni del fascismo. Però il mio stile sembrava in qualche modo. No, no, io mi sto rivolgendo a fatti ben specifici. La polemica sulla D'Urso preferirei non affrontare perché sennò abbiamo bisogno di altri dieci minuti. Detto questo, detto questo, ci sono delle regole e ci sono delle scelte. Noi non mandiamo mai in onda le fotografie di corpi di persone non in vita. Una volta l'abbiamo fatto perché ce l'hanno chiesto i familiari. Ci sono gente che le manda in onda come se non la fosse. Noi queste cose cerchiamo di non farle. Quindi il tuo è un richiamo alto a una deontologia professionale? Io non voglio insegnare niente a nessuno. Ognuno faccia quello che vuole. Tu dici, io lavoro così. Io ti dico come la penso. Poi mi dici, ma voi a quarto grado qualche stronzata l'avete fatto. Ma certo, viva Dio, capita. Però teniamoci su questi benari.